Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi show numero 272, Giorgione! Oggi parleremo di e-bike limitate in città, a livello di velocità, quindi limiti di velocità per le bici. Parleremo ovviamente anche di cosa è successo alla Milano Sanremo e di alcune novità di questa settimana. Iniziamo lo show! Lead Story! Ad Amsterdam verrà sperimentato un nuovo sistema di riduzione automatica della potenza dell'e-bike, Giorgione! Esattamente, non è che diminuisce la potenza, cioè se una bici può dare 250 W, ne dà di meno. In realtà avverrà un taglio della potenza a certe velocità che non deve essere per forza 25. attualmente ad Amsterdam come in tanti altri posti come ad esempio in Italia le bike possono dare supporto fino a 25 km orari oltre a questa velocità si può andare ma solo con le proprie forze si sta sperimentando nella città olandese un sistema per tagliare la spinta del motore a velocità inferiori in alcune situazioni come ad esempio fuori dalle scuole, fuori da zone pedonali zone che possono essere considerate pericolose, molto trafficate io non so, sono curioso di vedere come andrà questa sperimentazione non so se può essere una soluzione definitiva per ridurre gli incidenti delle e-bike dentro le città secondo me sarebbe più importante mettere delle norme chiare e precise a limitare automaticamente anche perché parliamo di velocità comunque che sono piccole però va vista in prospettiva questa cosa perché il sistema funziona in automatico praticamente questa società si chiama Town Making che è una società senza fine di lucro che in associazione con Odido, l'ex T-Mobile olandese controllerà dare moto a queste e-bike cioè quando si entra in certe zone a giro localizzazione blocca in automatico la velocità tu sei lì che vuoi spingere, vuoi essere libero di andare come ti pare però come dicevo prima pensate in prospettiva attualmente questa cosa verrà sperimentata sulle bici perché ovviamente è un mercato più semplice in cui entra rispetto al mercato auto però in prospettiva una cosa del genere sulle automobili beh questo sì potrebbe ridurre parecchio il numero di incidenti forse non l'hanno dichiarato ma l'obiettivo è proprio quello forse sì cioè iniziare con l'e-bike per poi arrivare le auto inizi in una città dove le biciclette sono tantissime ci sono corsie, strade, addirittura una specie di autostrade per bici con i semafori e tutto quanto perché il traffico di bici è veramente alto quindi si è reso necessario dover limitare la velocità di questi mezzi in alcune aree inizia una sperimentazione che limita in automatico la velocità sulle bici e magari in futuro in prospettiva si potrà estendere anche su altri mezzi beh sicuramente è un esperimento interessante sarebbe magari bello che queste idee questo progresso arrivasse anche in Italia tra l'altro volevo collegarmi a questa notizia perché oggi martedì 19 marzo è previsto il voto finale per la riforma del codice della strada poi dopo dovrà passare al senato quindi non è definitivo e diciamo che questa riforma non strisca proprio l'occhio ai ciclisti no non è proprio il massimo le uniche cose favorevoli sono un controllo delle pene molto più severe per l'utilizzo di alcol e droga al volante quello sicuramente dal mio punto di vista è un bene però per quanto riguarda la mobilità in bicicletta la possibilità di creare ciclabili la possibilità di mettere l'autovirus sotto i 50 all'ora è molto contrario e quindi potrebbe non migliorare la sicurezza sì no perché non li vogliono vogliono mettere i velo sotto i 50 vogliono complicare la vita ai comuni per le ZTL quindi rendere alcuni passaggi della città solo per bici e pedoni non vogliono fare aggiungere ciclabili vogliono fermare addirittura i lavori che erano in corso quello che è venuto fuori poi vediamo cosa succederà dopo questa votazione se ci saranno novità sì è un disegno che promuove l'utilizzo dell'auto ovviamente se tu incentivi l'utilizzo dell'auto le auto saranno sempre di più se tu vuoi una città senza auto devi disincentivare l'utilizzo delle auto e favorire altri mezzi di spostamento altrimenti le auto ci saranno sempre e saranno sempre di più soprattutto in un periodo come questo in cui abbiamo livelli di inquinamento altissimi perché siamo in inverno tutto quello che vogliamo c'è la pianura padana che è chiusa non pioverà tempo però abbiamo veramente superato tanti limiti quindi continuare a pensare a città per l'utilizzo delle auto secondo me non è proprio intelligente ci sono alcune associazioni che si battono per la mobilità verde tra queste c'è anche l'associazione Scarponi io conosco bene il fratello di Michele con cui mi sono visto anche recentemente che hanno realizzato un video per cercare di sensibilizzare più che l'opinione pubblica i nostri politici c'è un messaggio diretto proprio al nostro Presidente del Consiglio è un video molto forte ci sono queste persone tra cui anche Marco Scarponi hanno perso dei propri cari sulla strada e cercano di parlare al Presidente dicendo cerchiamo di fare questa nuova legge insieme parliamone insieme cioè facendo qualcosa di utile per la comunità e per i ciclisti in modo particolare vedremo cosa succederà Giorgio è arrivato il momento di parlare della Milano Sanremo ci è piaciuto il finale come sempre abbastanza roncavolesco sì speravo che ma saremo più veloce di sempre 46,112 km di media beh perché non sono partiti da Milano ma perché c'è il vento favorevole comunque è venuto a fare una corso molto veloce speravo che l'uai riuscisse a rimanere più compatta sulla cipressa per fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni in realtà è successo quello che abbiamo visto negli ultimi anni cioè il migliore ancora tutti insieme a puntare il poggio sul poggio tanti attacchi ma nulla di decisivo e si è deciso in volata in un gruppo ristretto il fatto è che se l'uai voleva fare corso dura devi essere sicuro di avere tutti gli uomini a disposizione cioè se ti mancano uomini come Ulissi e Irsi che devono menare sulla cipressa e a un certo punto spariscono ovviamente ci può stare perché sono esseri umani possono anche essere in un giornata no non essere brillanti però se parti con quell'idea lì devi essere non dico sicuro ma quasi perché poi al povero Tim Wellens si è toccato il tripolo lavoro poveraccio quanto ha tirato Wellens? Wellens e Del Toro hanno fatto il lavoro che avevano dovuto fare anche Irsi sì esattamente Irsi poi l'hanno usato in pianura tra cipressa e poggio non ho capito bene perché cioè per andare a chiudere su per tenere il gruppo un po' in tiro sì però dai non serviva lì anche perché se fai selezione sulla cipressa un pochettino devi continuare l'azione perché sennò poi rientrano tutti per carità si ristaccano poi sul poggio sì poi non puoi usare Wellens all'inizio poggio c'è un sacco di cose che non ti possono portare a fare quello che aveva in mente poggi purtroppo Poga c'era quella cosa lì cioè lui deve scattare nel pezzo dove ricomincia a tirare dopo lo spiano del poggio alla fine l'unica cosa che può fare è quella lì come faceva la Philippe è l'unica cosa che può fare anche lui però deve arrivare con tutti gli altri alla canna del gas se Philippe si è in scollina nel gruppo dei migliori tanto di cappello a Philippe però la gara è persa cioè soprattutto con Van Der Poel che chiudi buco a meno che non provi poi ad anticipare una volta arrivato in fondo o poco prima di arrivare in fondo perché Poga c'era attaccato sullo scollinamento ha risposto a Van Der Poel che però Van Der Poel non ha rilanciato l'azione è sceso con le mani alte già boh abbastanza insolito questa cosa anche se lui le tiene spesso su però non ha rilanciato l'azione come sai dopo le curve è bello dare quelle belle fiammate per provare a fare un po' di gap sì però in tutti lì si è girata visto che Pitco quasi lo tampona da quanto veniva giù forte in discesa Pitco vabbè non vedeva loro che gli taccia la discesa per arrivare gli addosso anche Moritz ha fatto un rientro esatto ha fatto un bel attacco Moritz tra l'altro le carte in tavolo sono cambiate tante volte poi di lì dall'inizio dal finale del poggio fino all'arrivo perché ha provato Moritz ha provato una volta che ha chiuso Van Der Poel su Moritz sobrero ho detto madonna fa il numero sobrero poi è arrivato Pitco che gli ha scadato in faccia è rimasto da solo sembrava che ce la facesse Pitco e dietro però Van Der Poel è stato determinante lì sono le dinamiche della Sanremo cioè ammetti che l'inconveniente alla bici che ha avuto Ganna l'avesse avuto Philipsen a quel punto lì Van Der Poel era da solo dove cercarsi per la vittoria non sarebbe mai andato a chiudere in prima persona il buco su Pitco sul finale e la Ineos sarebbe stata in due con Pitco l'attacco Ganna dietro pronta a fare anche una potenziale volata che ne ha o addirittura attaccare lui quindi tante cose cambiano purtroppo si è messa la sfiga di mezzo un'altra volta per gli italiani soprattutto per Pippo che si è bloccato il cambio secondo me se Pippo arriva giù e sta bene la fiammata che ha dato a Pitco lo poteva provare tranquillamente lui e poi chi va a chiuderlo? Stuyven? secondo me può arrivare secondo me se sta bene Pippo purtroppo ha perso una grande occasione questa è stata la sfortuna poi vabbè la volata qualcuno ha detto ah se c'ero io a far la volata qualche ascorridore io non lo facevo passare Filippo la volata di Matthews lui si è spostato un po' c'è stato un piccolo contatto però ovviamente più di così non puoi fare anche perché come è stato lanciato lo sprint Filippo era già dietro nella ruota posteriore di Matthews non poteva chiudere più di tanto però ha fatto un grosso errore Matthews se avesse trovato un grosso errore Filippo perché si è infilato tra il transenne se Matthews fosse stato il classico velocista sgamato lucido sul finale ma non era scorrettezza perché Matthews sarebbe rimasto sulla sua traiettoria Filippo non sarebbe mai passato posso dire che se c'era Filippo davanti gli chiedeva la porta che era una meraviglia perché Filippo le fa un po' quelle manovre al limite ma non sarebbe stato scorretto attenzione però devi lanciare lo sprint e buttarti subito sulle transenne senza dare la possibilità all'alto di recuperarti di venirti a metà bici perché altrimenti ti squalificano perché adesso sono molto si ma il punto è che come Filippo si è toccato appena appena Matthews Matthews gli è spostato di mezzo metro quella roba lì se è un velocista un po' più cattivo non l'avrebbe fatta avrebbe vinto al Sanremo e non ci sarebbe stato nessun tipo di squalifica però speriamo sempre di nuovo lato dopo 300 di metri di corsa 6 ore e mezza perde un po' di lucidità di cattiveria un bel po' anche da segnalare un buon quinto posto di Bettiol che aveva vinto qualche giorno prima alla Milano-Torino con una bellissima azione a 30 con la terra riva azione aero era tutto vestito aero vestito da crono comunque grande condizione di Bettiol mi si è aspettato anche ero lì così dai Bettiol dai Bettiol un attacco magari all'ultimo chilometro poco prima che attaccassi a Sobrero speravo che ci provassi ero lì in un momento dove si sono allargati dai che parte dai che parte invece era l'unico modo per provare a vincere dovevi fare una tenda di quel genere poi vabbè ha scelto di fare la volata ma comunque bene perché un quinto posto sicuramente non si butta via comunque a me è piaciuto il finale mi sembra come sempre il finale starremo bellissimo non c'è nulla da dire e poi c'è stato il trofeo Binda caro Giorgione con il grande successo di Elisa Bassam sono arrivati un gruppetto allo sprint ed ha castigato Lotte Copechi che non è facile perché se è il mondo in carica diciamo che la Bassam si è ripresa 100% siamo molto felici per lei per tutte le sfortune che ho avuto l'anno scorso è tornata a splendere l'anno scorso si era rotta la mandibola ha mangiato con una cannuccia per un mese e passa ci ha raccontato quando l'abbiamo incontrato l'anno scorso a Misano è stata una delle esperienze più brutte della sua vita il periodo che ha dovuto affrontare è stato qualcosa di devastante un incubo seconda solo a quando si è vestito da Babbo Sumo lì penso è stata la peggiore in assoluto intanto mi dice che c'è gente che per strada dice Babbo Sumo si te lo giuro mi avete terminato la carriera un momento ridendo qualcuno c'è qualche super fan di G7 Italia che poi magari non tutti hanno visto quel video vi consiglio di rimediare il video di Babbo Sumo con Elisa Balsamo abbiamo un po' di novità tech che arrivano ancora dalla fiera di Taiwan ci sono corone che diventano sempre più grandi Digirit addirittura ha proposto una corona da 100 denti visto che quella da 68 sembrava non sufficiente non so bene che pignone si usi con una corona da 100 denti proposta su pista penso che sia per le gare dietro Derni e dietro Steyr visto la dentatura poi c'è una novità interessante di Camelback il nostro partner di borracce è iniziato a produrre borracce in metallo con diversi vantaggi quelle in acciaio sono disponibili in versione 530 650 ml sono entrambe a doppio scompartimento quindi c'è una camera d'aria tra i due strati di metallo che prolunga il mantenimento della temperatura che sia caldo o fredda in base a cosa si mette dentro si possono pulire facilmente si adattano bene al portaborracce si riutilizzano più volte quindi non c'è anche meno spreco meno produzione di plastica e un sacco di altre cose non c'è bisogno di spremerle per far uscire il liquido quindi è tutto molto più semplice il tappo si può chiudere per non perdere liquido e c'è anche la versione in titanio per chi vuole una cosa veramente leggera quasi al par di una borraccia in plastica perché non potrà mai pesare poco come una in plastica però è un bel oggetto da poter tenere su una bici poi c'è da dire che usciranno anche i nuovi kit ahu ahu bisogna dire ahu in olandese anche qui stiamo sempre su una linea green che stanno seguendo un po' tutti i produttori del mondo del ciclismo hanno deciso di creare una collezione non tinta praticamente i vestiti non vengono le fibre non vengono tinte dopo essere state filate o comunque trattate non sono bene come avviene ma sono colori naturali neutri o al limite si usano delle nanoterre per colorarli ma nulla di chimico e quindi un utilizzo di acqua molto inferiore un utilizzo di vernici un minore impatto ambientale la produzione anche da questo punto di vista avrà stessa l'occhio l'ambiente trovate sia le borracce sul sito di Camelbeck sia i completini sul sito di hau le vignette di Gandolfo allora Giorgione abbiamo la prima dedicata a vita di sabato sulla scelta della sella più adatta non mi interessa se hai male la sottosella userai una sella regolamentare come tutti gli altri con una bella poltrona una vera e propria poltrona al posto della sella sono convinto sia comodissimo con la poltrona secondo me non è comodo per niente ho qualche dubbio sulla biomeccanica poi per pedalare sull'anteroversione di bacino con la poltrona potrebbero esserci problemi e la seconda no vabbè qui si sdramatizza dimmi figliuolo quando avresti detto tutte queste parolacce povero Pippo Ganna che è stato costretto a uscire di scena sabato scorso per colpa di foratura problema meccanico non è stato specificato comunque sfortuna sicuramente niente quindi Filippo Ganna che va a confessarsi del giorno è nata così andiamo con i tuoi commenti iniziando con Piripiro 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 che ci dice allunghiamo qua ma che ma che due palle lo possiamo dire e vieta questo e vieta quello sembra che Luci sia lì per rompere giustamente o meno i cabasisi l'hanno approvato e andava tutto bene che è sta sozzeria dello svegliarsi ora finché il casco è sicuro per l'atleta che lo usava o bene così l'estetica è soggettiva l'unica cosa che ridicolizza il ciclismo è Luci stessa che si facessero meno fisime ma no Luci in realtà importantissima per tante cose serve un mente che regola la mente il ciclismo al punto che come dice l'altra volta hanno sbagliato i tempi spesso non è la prima volta però non è la prima volta sono errori che si potrebbero evitare Parlomo che è Parlomo Parlomo non bisogna scordarsi che la sicurezza del casco non dipende solo dalla progettazione degli strati che assorbono l'impatto anche la forma della superficie che in caso di caduta impatterebbe il suolo ha la sua importanza in quanto determina lo scarico delle forze sul tratto cervicale della colonna vertebrale una forma molto allungata in avanti o di lato potrebbe essere un problema in caso di impatto in quanto la parte in eccesso potrebbe essere causa di torsioni importanti a carico del collo sì ma ti potrei anche dire che invece potrebbe essere qualcosa che protegge di più perché ad esempio se uno cade di lato prima picchia la spalla se ha un casco stretto vicino all'orecchio il collo deve spostarsi tanto e la testa quando picchia avrà una torsione nel collo se il casco è più largo come picchia la spalla picchia anche il casco e la testa rimane più dritta quindi dipende come si cade cioè è vero però dipende è matematica sta cosa comunque quando Kung l'anno scorso al campionato europeo crono è caduto che aveva centrato la transenna aveva tutti questi tagli profondi in faccia qualcuno ha detto che la carrenatura del casco che si era aperto davanti gli aveva procurato questi tagli ma anche perché c'è la lente davanti sì c'è anche la lente poi avevano a 50 all'ora prendinato si è sfondato proprio davanti contro la transenna a 50 all'ora ha preso una transenna in testa ed è ripartito però mi piacerebbe capire come fanno i test ai caschi prima di commercializzarli cioè no proprio il sistema si mettono un'anguria dentro la puntano giù dal secondo piano io la farò da più angolazioni non può accadere così se l'anguria rimane intatta direi che casco bollino poi quando vogliono sabotare i mandano le anguria un po' passate là un po' marce che si spaccano prima però ma scherzi sarebbe interessante capire come vengono progettati come vengono testati beh sì potremmo andare a fare un video Federico Bellardini personalmente trovo il casco della Visma estremamente bello e funzionale se ti vuoi vestire da Minions bellissimi Minions ho visto tutti i film non avevo dubbi tanta roba sto guardando io con le mie figlie tu perché guardi i film vabbè Minions per ridere Luca Boreggio vai con Luca Boreggio curiosità quando vanno in fuga ad esempio a Milano Sanremo che sforzo tengono quelli in fuga Z3, Z4 in seguitori Z2 tranquilla io ho fatto una Milano Sanremo in fuga 270 km non si va sempre uguale cioè vai all'inizio vai anche Z1 giri proprio con calma poi man mano che si avvicina l'arrivo si avvicina la cipressa sì alla fine si fuori soglia comunque la maggior parte del tempo è in Z2 perché comunque devono resistere al limite quando sei in testa a tirare magari in Z3 però quando sei in scia poi dopo dietro agli altri Z1, Z2 e poi ovviamente più si arriva alla fine più c'è salita li devi menare dopo sei a tutta perché anche Bacayway cerchi di farti prendere il più lontano possibile tra l'altro Tonelli ha fatto per il sesto anno consecutivo la Milano Sanremo in fuga ha battuto ogni record già aveva battuto il record della durata della fuga perché non ce l'hanno scorso due anni fa l'hanno preso proprio ai piedi del poggio e no vabbè sono piccole soddisfazioni comunque la Z2 de Pro è alta cioè non è che pensate Z2 de Pro vuol dire andare in giro la 340-350 quindi banno non è che è Z2 sì sì per loro però comunque nel finale si è a tutta si è pancia a terra e Old Drado un bergamasco e un romagnolo che parlano di febbre da cavallo vi manca poco il contesto sociolinguistico questo è un romano sicuramente è un romano tra l'altro ci hanno bacchettato qualcuno mi hanno bacchettato sì te l'hanno bacchettato perché hai detto che è di Odessica o Fellini comunque no è di Steno è un bel film un bel film ma te l'ho anche visto solo che mi avrebbe un proprio scatto mi ha fatto molto ridere sinceramente a te non ti piace la comicità romana? no ok guarda ti fucilano sono di tanti romani che ti guardano peggio per loro non mi frega me Fabrizio Sperto no questo ha riferito al video che mi ha lasciato a bocca aperta il video di domenica è una bocca aperta perché si vede ad un certo punto il frame quella metamorfosi c'è Brambo prima e Brambo dopo Fabrizio Sperto dice da pupa a farfalla l'estinzione dell'orso Bram Bernardo e Riccardo Landi dici un po' però mi mancherà ma a me non manca sto bene così il personaggio dell'orso del Giorgio Giorgione io ti chiamano comunque uguale ti chiamo sempre Giorgione sono sempre quasi un metro e novanti sei sempre uno grosso non è che adesso sei diventato un camoscio no sei sempre un massiccio 13 kg meno forse sarai qualcosa in più già 14 ho già perso un'altra perdrai ancora qual è sarà il plateau il plateau definitivo penso 85 meno 20 kg quindi arrivare il mio peso 85 kg sì il plateau sarà quello 85-86 e dopo si meno Giorgione dopo come ride vogliamo fare vogliamo fare le sfide come passavano da professionista ma non subito prima di farmi riguadagnare anche 60 watt poi va bene per me guarda Giorgione se vai forte per me è solo che mi piacere anche perché possiamo fare dei video racing o video di avventure in bici più fighi senza senza soffrire come prima assolutamente a proposito domenica questa esce il video della prima criteria un fatto abbiamo avuto un po' di difficoltà nel registrarlo però esce qualche problema con le camere allora caption challenge la sfida a rischio estinzione delle didascadie come il Bram Bernardo perché perché si sta estinguendo la caption challenge perché praticamente sta diventando un problema inviare le borracce per via delle spese doganali per via della Brexit già sapete della situazione quindi probabilmente non si farà più doggione a oggi già potrebbe essere l'ultima volta che premiamo un impattato con la borraccia eh sì e quindi scegliamo bene quindi scegliamo bene allora però l'altra volta vi ricordo che abbiamo detto abbiamo detto c'è qualcuno che non ha mai vinto la caption cioè la disperazione di chi non ha mai vinto la caption di 271 puntate e abbiamo trovato uno Giuseppe Diella dice io ho commentato sempre la caption challenge e non ho mai vinto ecco vinto l'ultimo facciamo vincere Giuseppe facciamo vincere Giuseppe non c'entra assolutamente niente con la foto che avevamo messo ma vabbè dai poi se siete dei grandi fan della caption challenge scriveteci magari se vedono tanti commenti pro caption challenge le cose cambiano chi lo so vedremo diciamo che eliminare la stessa sezione e stare più lunghi su altre cose più interessanti e vabbè fallo decidere agli impattati si ma la borraccia non gli arriva più gli impattati non è che c'è la caption in sta borraccia ho capito caption non challenge magari può essere una cosa divertente che piace che funziona che ne sai Giuseppe anche senza borrare che la gente commenta senza pensare alla borraccia tante volte vabbè comunque niente via con niente non posso andare con la sfida niente conclusione siamo arrivati a la conclusione di questo 272esimo GCN Italia Show stiamo lavorando di brutto in questo periodo ci sono un sacco di video in cantiere che stiamo registrando e abbiamo già registrato quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella per le notifiche così vi stressiamo ogni volta che esce un nostro nuovo video alla prossima puntata ciao